ok sta registrando finita così puntata verso oh yes e poi ci riandiamo se lo fai tu? vai 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 tu andiamo un po' più spinti vai ok qui c'è proprio il fiume l'acqua da tutte le parti guardiamo mezza le rapide stiamo bellissimo mi piacerebbe però provarlo da solo c'ho paura però buzzacchio che se ci rimaniamo un cazzo di casino però ci devo provare retromarcia però ci devo provare retromarcia non 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 non